Allora, saluti tutti quanti, questo è il video che andrà sulla fetta.net Allora, lei è Emanuela, la nostra ospite qui in Cina Deborah la coinquilina Sia Egitta Alessio il Brutto E io sassofiliaco che sto parlando Adesso siamo in un ristorante cinese il cui nome è? I tre pesci No, i tre pesci, secondo me è la marca delle bacchecce Perché qui si mangia con le bacchecce Le bacche usaggetta, però Ma queste sono le usaggetta E se venite a mangiare qui probabilmente sarà difficile trovare delle posate europee Quindi dovete imparare a mangiare per forza con queste qui Questo è proprio un ristorante tipico Questo è come se fosse la tratteriera Rosutsus giù a Forcella Avete presente? E noi siamo dal Sozzoso di Pechino Dove ovviamente si mangia bene? Si mangia bene, Emanuela e Deborah sono tornate apposta per noi qua dentro Va bene, allora prima che arriva qualcosa vi facciamo vedere anche il video di cosa si mangia veramente in Cina Non cosa si mangia nei ristoranti cinesi in Italia Bye bye